Atalantis presenta Net Camera 801NV, una IP camera per la videosorveglianza. Il dispositivo è di colore bianco, la scocca è completamente in alluminio, il che la rende adatta ad un utilizzo di tipo esterno. Le sue dimensioni sono di 265 mm in lunghezza e 85 mm di diametro. Sulla parte frontale troviamo l'obiettivo munito di 36 LED ad alta potenza con una portata di 30 metri, che permettono di avere riprese chiare anche in notturna. Sulla parte posteriore troviamo invece un connettore Ethernet che supporta la funzionalità Power over Ethernet e quindi consente sia lo scambio dati che l'alimentazione, un connettore di alimentazione, un'uscita audio, un pulsante di reset, un terminale per la connessione di un eventuale allarme ed infine la placca per il fissaggio alla parete. All'interno della confezione infatti troverete anche un pratico kit da utilizzare per il fissaggio a muro ed una placca per la copertura della Net Camera. Net Camera 801 NV è una IP Cam completa e versatile, adatta per massimizzare la sicurezza in ambienti outdoor. Le funzioni di commutazione avanzate ne consentono un impiego combinato con dispositivi di rilevazione acustici, speaker o sonde ambientali esterne. Inoltre, mediante la funzione pre-allarm, al verificarsi di un evento rilevato tramite la funzione motion detection, l'IP Cam è in grado di trasmettere la registrazione dei 5 secondi che lo precedono. Un'importante tutela contro atti di sabotaggio. Le immagini che possono essere trasmesse via cavo Ethernet sono prodotte in formato MJPEG e MPEG 4 a 30 frame per secondo in risoluzione VGA. Elevati standard di sicurezza sono garantiti dalla possibilità di configurazione tramite protocollo HTTPS. Il software a corredo inoltre permette di gestire sino a 16 Net Camera schedulandone la registrazione continua o su motion detection. Il supporto integrato a Windows Live MSN inoltre permette di chiamare in modalità remota e di ricevere direttamente il flusso video generato. Net Camera 801 NV rappresenta un'ottima soluzione per chi, aziende o ente locale, cerca sistemi di videosorveglianza efficaci e versatili e consente inoltre videosorveglianza remota o la trasmissione di immagini video in tempo reale su LAN, internet o rete cellulare.